Ok, 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 adesso dobbiamo essere molto molto attenti perché faremo una serie più pesante, quindi dobbiamo fare sinistra-destra, bloc-bloc, sinistra-destra, avete capito? Ok, proviamo, sinistra-destra, bloc-bloc, sinistra-destra, va bene, 1, sinistra-destra, bloc-bloc, sinistra-destra, 2, sinistra-destra, bloc-bloc, sinistra-destra, 3, pam-pam, bloc-bloc, sinistra-destra, ok, 4, pam-pam, bloc-bloc, sinistra-destra, 5, cambiamo guardia, adesso dobbiamo fare destra-sinistra, bloc-bloc, destra-sinistra, va bene, avete capito? Proviamo, destra-sinistra, bloc-bloc, destra-sinistra, ok, 1, destra sinistra bloc bloc destra sinistra due tre 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 Grazie.